Ciao a tutti, sono Andrea Fiasconaro, ho 28 anni, vengo da Mantua e sono stato rieletto consigliere regionale in questa legislatura. Nella scorsa legislatura mi sono occupato di tutti quei temi cari alla mia provincia, trasporti, infrastrutture, agricoltura, ambiente e sanità. La stessa cosa vorrò fare in questa nuova legislatura che ho l'onore di poter continuare e in particolare mi piacerebbe occuparmi in questa legislatura di agricoltura, di infrastrutture, strade, ponti e tutti i problemi che abbiamo nella mia e nella nostra provincia riguardo a queste infrastrutture e sanità. Mi impegnerò sempre di più per coinvolgere i cittadini nel lavoro di consigliere regionale e coinvolgerli nell'attività di questo palazzo del Pirellone e del Consiglio regionale. Ho cercato di farlo in questi anni, quindi uno dei miei obiettivi sarà quello di nei prossimi anni farlo sempre di più e sempre in maniera più efficace.